8 giorni senza covid continua la serie positiva della calabria senza nuovi contagi arrestato istruttore di bodybuilding a corigliano rossano sequestrati oltre mille farmaci anabolizzanti dopanti vietati migliorare le prestazioni sanitarie ottimizzare le risorse questo il senso di una proposta di legge presentata dal pd in consiglio regionale si avvicina l'estate la calabria sfrutti l'immagine di regione libera dal covid a dirlo e l'assessore regional turismo fausto orso marso che chiede ai sindaci di non applicare misure restrittive rispetto a quelle di governo e regioni